E' bella tirata e oggi mi insegnerò a suonare alcune canzoni semplicissime per tipo sorprendere i vostri amici diciamo. Allora iniziamo con la sigla di Harry Potter che fa. Ok allora adesso possiamo innanzitutto vederlo a rallentatore. Ok perfetto allora adesso potete imparare le note e vi metterò lo spartito qui davanti a voi. Adesso proprio ora. Poi possiamo imparare per esempio se andate in chiesa possiamo imparare l'inizio della canzone Gloria che fa quello che fa. Gloria Gloria Adio nell'alto dei cieli Gloria Ok allora per esempio mettiamo l'organo e io in chiesa lo con questo tono cioè il secondo e fa così. Allora adesso ve lo faccio vedere all'alentatore. Grazie. 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 Grazie a tutti.